Cittadini e comune di Arezzo da adesso potranno comunicare anche tramite WhatsApp. È stato infatti attivato il nuovo canale Unico Online per ricevere informazioni, ma anche dialogare con lo sportello unico e prenotare servizi. E quindi un avvicinamento dell'amministrazione ai cittadini e quindi di converso dei cittadini all'amministrazione, con il mezzo che oggi è universalmente riconosciuto come il vettore informativo più importante. Iscriversi è semplicissimo, basta scaricare e installare l'applicazione WhatsApp sul proprio cellulare, inserire nella rubrica il numero di telefono ed inviare a questo numero il messaggio Iscrivimi. Digitando la parola Iscrivimi il cittadino viene inserito all'interno di una lista e in questo modo può ricevere o informazioni sui servizi erogati dall'amministrazione o chiedere lui informazioni sul tempo di attesa allo sportello o prendere un appuntamento. Non funziona con la logica del gruppo, quindi è un'iscrizione ad una lista broadcast. Ciascun cittadino in maniera unidirezionale si iscrive al nuovo servizio e riceve unicamente informazioni senza sapere chi sono gli altri iscritti. Il servizio è attivo da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e si affianca agli altri canali di comunicazione già utilizzati dal comune di Arezzo. Oggi lo smartphone per l'80% del totale della navigazione ormai è tutto su mobile quindi era importante che anche la pubblica amministrazione si avvicinasse a questo mondo. WhatsApp tra l'altro è il programma di instant message più usato al mondo, un miliardo e mezzo di utenti, in Italia più di 25 milioni, quindi in questo modo ci avviciniamo sempre più al cittadino e stiamo piano piano trasformando la pubblica amministrazione sempre più in digitale. Con l'attivazione di Unico Online su WhatsApp prosegue il percorso intrapreso dall'amministrazione comunale verso la creazione di uno sportello unico virtuale. Arezzo è un'ottima esperienza e grazie al servizio WhatsApp che abbiamo presentato oggi diventa una buona pratica nazionale anche perché unisce due modalità, quella di invio broadcast delle notizie a quella one to one di rapporto diretto con i cittadini. è una modalità molto avanzata che già esiste in altri comuni italiani ma Arezzo a questo punto entra di diritto tra le buone pratiche nazionali.